però voglio andare avanti allora nello user profile io qui ci voglio mettere anche l'avatar url url dei punti string pipe undefined mmm giusto che ovviamente adesso qua in errore user profile service ok avatar url undefined ok e adesso compila perfetto allora intanto facciamo questa cosa allora il messaggio è qui qui abbiamo lo small lo possiamo fare un bel div qui dentro e poi un altro div con l'avatar ok dovrebbe essere così ok quindi l'immagine ce l'abbiamo ok ovviamente qui l'src deve arrivare da questo dal user center ma se undefined dobbiamo far vedere un'icona di un'icona normale no? quindi chiocciola if if user center aspetta così punto avatar url s avatar aspetta così questo lo cancelliamo così piace ah giusto non gli serve questo avatar url punti di domanda punti di domanda stringa vuota e così non vediamo il eh niente mi serve un'immagine facciamo così questo e mettiamo qua e vediamo ok ovviamente l'avatar in questo caso sarà sempre lo stesso no? peraltro adesso noto dobbiamo dargli un overflow overflow auto dobbiamo andare a fare la pagina profili quindi qui in pages in pages andiamo a creare la pagina profili ma facciamo molto semplice c profile meno meno skip adesso la facciamo proprio semplice semplice quindi abbiamo il profile qui facciamo così profile pages profile profile component profile component switch chat profile andiamo nell'app qui e scriviamo profile router ovviamente non ce l'abbiamo router link link andiamo qui router link parro profile quindi se vado qua clicco profile profile works ora non faremo dobbiamo fare l'upload allora file store file store angula fire andiamo a rivedere la nostra fida documentazione qui c'è anche lo storage dove 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 eccolo qua load storage praticamente è per inviare qualcosa nello storage quindi lui dice tanto di abilitare angula fire il firebase console di abilitare lo storage andiamo a vedere creazione si eccolo qua inizia la via modalità test dove mette la cosa e creiamo lo storage adesso ha creato la cosa a questo punto dicono tanto di abilitare lo storage quindi andiamo nel nostro config e qui abilitiamo lo storage anche qui non ha fatto la mannaggia ecco qua e quindi abilitiamo lo storage dopodiché dice di iniettare lo storage quindi andiamo nel nostro profilo se lo vedessi ecco qua iniettiamo lo storage lo storage dove l'ha preso lo storage ha preso lo storage di dopodiché è finita non c'è più no eccolo qua allora questo è l'upload l'upload quindi andiamo qui e sostitiamo questo e vabbè copiamo tutto ok qui dobbiamo andare a prendere questo qui andiamo a prendere questo ok e credo che abbiamo finito qui facciamo l'upload ovviamente dopo dobbiamo associarlo al profilo ok intanto vediamo se funziona no allora qui non abbiamo niente qui adesso andiamo nel profilo e scelgo questo upload non abbiamo visto niente ma qua dovrei vedere qualche cosa eccolo qua però questa immagine noi dobbiamo agganciarla al profilo ora questo ref storage ref allora dovrebbe bastare questo allora quindi cost upload task è uguale a questo a questo punto qui togliamo via questa robaccia non c'abbiamo lo snapshot changes che cosa c'abbiamo c'abbiamo il van eccolo qua perché l'hanno trasformato in funzioni quindi qui mi serve storage ref ok questo get download rule curl è una promise ok quindi prom promise e questa è la promise punto pipe qui facciamo un punto subscribe ok questo lo mandiamo a capo a questo punto devo fare uno switch map ok per andarmi a prendere l'utente e poi fare l'update ok quindi qui abbiamo lo url qui che dobbiamo fare dobbiamo andarci a prendere l'utente attivo esatto quindi private user profile service vale inject user profile service quindi this punto user profile service e qui c'è il get user ref che è un show volta un observable possiamo far così combine it with questo ok quindi qui abbiamo l'url e doc ref user doc ref doc ref quindi abbiamo l'url e lo user doc ref la quadra un update doc user doc ref quindi qui basta dirgli lo user profile così le punti url ora questo non le viaggia ok perché deve essere definito if user doc ref ed è così ovviamente siccome è uno switch map return compromise questo oppure return of undefined ops e quindi sì ok questo eliminiamo ok abbiamo fatto la la profile se tutto va bene vado nel profile c'è il gone file questo faccio l'upload a questo punto qui faccio no c'è qualcos'altro che non va ritorniamo nel profile facciamo la selezione del file facciamo l'upload andiamo a dire general rod aggiornato eccola c'è lì file c'è c'è su linux la possibilità di vedere immagini suono faccio questo upload e l'ha aggiornato bambini allora facciamo una cosa così vi rendo felici andiamo qui che cosa abbiamo abbiamo tutte modifiche così ve le commetto ve le potete vedere se volete vediamo abbiamo fatto un po' di pulizia abbiamo customizzato più profile work in progress ok e lo facciamo da qua mi sa che non l'ho configurato hit push ok ce l'avete allineato ok ragazzi questa sera abbiamo visto pure lo storage è stato bello alla prossima ciao 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 ciao